Chiara Bugliese, cosa ti ha spinto questa mattina a radunare la gioventù crotonese? Perché oggi in molti hanno risposto al tuo appello, ma soprattutto giovani. Sì, il motivo che mi ha spinto a manifestare oggi è molto semplice, cioè che siamo tutti uguali, che non ci dovrebbe essere più davvero un problema come il razzismo, ed è un problema che mi sta molto a cuore perché lo vedo nella vita di tutti i giorni, non sulla mia pelle ma sulla pelle anche di persone che amo molto, che il razzismo ancora esiste ed esiste purtroppo anche in Italia e quindi dovremmo essere uniti in tutto il mondo oggi più che mai, penso per combattere questa brutta, brutta cosa che non dovrebbe esistere ancora nel 2020, una differenza tra culture religiose o etniche, una differenza di pelle, non dovrebbe essere motivo di odio, di discriminazione e di ingiustizia. Io non ho mai organizzato una manifestazione in vita mia, quindi molto timidamente ho provato oggi ad essere qui. La risposta è stata positiva, devo dire, ma non sono completamente sorpresa perché so che Crotone è una città piccola, ma so che di gente col cuore buono ce n'è molta ed è anche questo uno dei motivi che mi ha spinta. Crotone penso che abbia tanto bisogno di queste tipologie di manifestazioni che muovono gli animi, che li uniscono. Quando ho deciso di creare questo evento, mi sono anche fatta diverse domande con me stessa perché non sapevo sinceramente se questa manifestazione avesse potuto fare del male o del bene a questa gente perché io purtroppo e per fortuna da una parte non ho vissuto sulla mia pelle tutte le avversità che questa gente ha nella loro vita perciò non mi riesco completamente a mettere nei loro panni ma ce la metto tutta e spero che questa manifestazione sia per loro un modo di sentirsi a casa che loro sono i benvenuti qua e che siamo tutti tutti vicini per darci una mano. Noi siamo qua per dimostrare, per fare questa manifestazione per combattere contro il rasismo che noi tutti siamo uguali, tutti siamo umani quindi per quanto riguarda il colore siamo tutti uguali per questo noi siamo qua per dimostrare che noi tutti non c'è rasismo nel mondo il rasismo non ha il posto in questo mondo quindi noi dobbiamo essere uniti dobbiamo portare l'amore per tutti ma il rasismo non c'è spazio in questo mondo